Ben trovati alla rassegna stampa di Fano TV, amici della nostra emittente. Oggi è giovedì 25 maggio 2023, come sempre apriamo i giornali Resto del Calino e Corriere Adriatico per vedere le notizie del giorno, passando però prima come ovvio, come al solito, all'almanacco del giorno. E vediamo il santo. Il santo di oggi è San Veda, San Veda detto il Venerabile. Veda significa l'uomo che prega. Il nostro santo nacque nel 672 ai confini della Scozia. È stato un frate benedettino dedito alla preghiera e all'insegnamento. Dalla sua scuola uscirono uomini veramente illustri. Scrisse molto, interpretò in modo mirabile la Bibbia alla luce delle opere dei padri della Chiesa. Il suo insegnamento fu così apprezzato che fu, lui in vita, considerato il Venerabile. Ecco perché ancora oggi lo si ricorda con questo titolo, Veda il Venerabile. E vediamo le previsioni del tempo. Tempo abbastanza buono oggi sulle Marche, in modo particolare sulla provincia di Pesaro Urbino. Giovedì all'insegna del bel tempo su tutta la regione, con ampi spazi soleggiati. Ci sono però alcuni cumuli in sviluppo diurno, soprattutto nel sud delle Marche, verso l'entroterra, verso la fascia appenninica. I venti deboli sulle coste da ovest-nord-ovest, all'interno da est-nord-est. Le temperature dai 15 ai 22 gradi, il mare non è mosso, il mare è calmo. Questo per il momento le previsioni del tempo. Vedremo poi se si avvereranno nel corso della giornata. Allora oggi per prima cosa apriamo il resto del Carlino e vediamo gli effetti della relazione che ha fatto il dirigente Celani in merito all'indebitamento che il Comune potrebbe assumere, che potrebbe determinare effetti molto importanti sul bilancio stesso dell'ente pubblico. Conti a rischio per l'Interquartieri e la Federiciana. La maggioranza va in tilt a fondo dell'opposizione. Devo dire che il giornale un pochino calza su questa notizia. Paventa un rischio di default, così come probabilmente ha detto anche il dirigente in questione. Per quanto riguarda l'assunzione di mutui che il Comune si appresterebbe a sottoscrivere in merito alla Interquartieri, 5 milioni, e in merito invece alla realizzazione della nuova Federiciana il cui costo totale si aggira sui 9-10 milioni. I 2 milioni mi sembra che siano già disponibili dal PNRR, ma occorre poi coprire la differenza. Il problema è che nella prossima seduta del Consiglio Comunale c'è in oggetto e all'ordine del giorno una modifica al bilancio di previsione, che appunto comporta questi aggiornamenti. Insomma, il dirigente ha messo in guarda i consiglieri. Guardate che se il Comune poi si indebita c'è un rischio. Lui non dice di default, ma lo lascia capire. Ed ecco appunto che la opposizione è in fibrillazione, accusa la maggioranza di non aver fatto bene i conti, mentre a rassicurare che tutto è regolare è il vice sindaco Cristian Fanesi. E lo vediamo qui in una fotografia, mentre accanto a lui abbiamo un'immagine del bellissimo progetto di ristrutturazione della Federiciana. Fanesi, non c'è alcun problema economico, ha detto l'assessore rivendica. Ho concluso l'iter urbanistico secondo il mandato ricevuto dal Consiglio, per quanto riguarda la variante di Gimarra. Assessore, ci sono ancora i tempi per costruire la strada, vista la scadenza del 30 giugno, interroga il giornalista. Ebbene, Fanesi risponde. L'obiettivo è pubblicare il bando di gara entro il 30 giugno, con l'augurio che ci possa essere una proroga poi del termine per i progetti sopra i 20 milioni, come appunto quello della variante. In ogni caso, noi l'iter lo abbiamo portato a termine e vogliamo andare avanti. Quindi il Comune prosegue sulla sua strada. E per quanto riguarda il problema economico, dice, non c'è alcun problema economico per la strada interquartieri. Non c'era gennaio quando la delibera è stata votata e non c'è oggi. Quindi tutto è regolare e tutto va avanti, secondo appunto l'amministrazione comunale. Giriamo la pagina e vediamo come c'è una smentita. Ieri il resto del Carlino ipotizzava una candidatura di Marta Ruggeri a sindaco di Fano nelle prossime elezioni del 2024 per una nuova lista che si chiama Ribella. In realtà Marta Ruggeri non ne vuole sapere. Vuole concludere il mandato in regione, secondo il termine canonico. Confermo il mio impegno in regione fino alla scadenza del mandato, ha detto la Ruggeri, e ad oggi escludo una mia candidatura a sindaco. La consigliera regionale del Movimento 5 Stelle ribadisce la sua indisponibilità a rimettersi in gioco come candidato a sindaco e di fatto nega ogni collegamento con la lista Ribella. Quindi è stato anche questo un passo in più compiuto appunto dall'organo di informazione. Un bando tanto ricco quanto oscuro è quello invece che viene considerato da Fratelli d'Italia il bando per una consulenza nel settore della cultura. È un bando che supera l'attuale tornata amministrativa e quindi impegna anche la nuova giunta che si costituirà dopo le elezioni del 2024 e per questo viene criticato dai due consiglieri di Fratelli d'Italia, Lucia Tarsi e Giuseppe Pierpaoli che appunto valutano in proprio questo fuga in avanti dell'attuale maggioranza. A fondo pagina invece vediamo la notizia di una iniziativa che si svolgerà il 31 maggio al Cinema Masetti che parla di volontariato ma parla soprattutto di forum del terzo settore. È un'iniziativa organizzata da Lauser Marche che chiama al convegno tutte le associazioni di volontariato per sottoscrivere un patto di collaborazione in rete. Collaborazione per quanto riguarda i progetti, per quanto riguarda il personale, per quanto riguarda gli intenti, insomma per costituire una forza tutti insieme e proseguire su un'unica strada decisa e prevista da tutti. I soggetti coinvolti sono appunto Lauser, LACLI, Lanteas, Lega Ambiente, Centro Solidale, Università di Urbino e l'Accademia di Belle Arti di Urbino. Giriamo la pagina, vediamo ancora a Fano una iniziativa che vede una cantante molto nota un tempo dai bimbi, ora ancora dei bimbi ma anche dagli adulti e si tratta di Cristina D'Avena. Cristina D'Avena parteciperà al Boomerang Rewind Festival che si organizzerà a Fano il 16, 17 e 18 giugno al Lido di Fano. È una nuova edizione di questa iniziativa che già ha riscosso tanto successo. Ebbene Cristina D'Avena, la mitica interprete di tante sigle di cartoni animati che hanno fatto crescere intere generazioni di bambini, sarà un po' l'ospite d'onore di questa bella iniziativa che inaugura possiamo dire la stagione turistica del Lido di Fano. Passiamo un po' agli altri comuni. Vediamo Cartoceto, torna il mercato contadino. Vittorio Beltrami che è una nota figura di imprenditore dell'entroterra, un imprenditore volto alla genuinità dei prodotti a chilometro zero e soprattutto alla tutela del territorio, punta a rinverdire i fasti dell'antica fiera di San Bernardino di Cartoceto. 15 produttori in piazza ogni sabato dalle ore 16. Ebbene una bella iniziativa per assaporare soprattutto i formaggi, l'olio e tutto quanto di buono si produce a Cartoceto. A Marotta invece debutta una nuova area per i cani. Prima dogarea a Marotta, debutto coi cani da soccorso. Domani ci sarà l'inaugurazione a piano marina. Sarà inaugurata la prima dogarea del territorio comunale di Mondolfo. Uno spazio verde con adeguati servizi, opportunamente recintato, con gli animali che possono scorrazzare liberamente. Ebbene c'è la consigliera Franceschini che dà appuntamento a tutti coloro che hanno un cane e vogliono così farlo sbizzarrire un po' insieme, farlo liberare in una zona protetta dando appuntamento all'incrocio tra la pista Mondolfo-Airfield e via 25 Aprile. Invece Cartoceto che non ha questa struttura un po' la rivendica. Invece qui dice una proprietaria di cani, si tratta della 27enne Laura Mignano, qui in questa foto, qui a Cartoceto. Nonostante le promesse del sindaco di costituire uno sgambatoio, ancora non si fa nulla, nemmeno l'ombra. E se vai nei parchi ti fanno anche la multa, dice questa amica dei cani. E dove quindi farli un po' muovere questi animali? Ebbene, è un punto interrogativo che il sindaco di Cartoceto, Enrico Rossi, deve risolvere. Non dovrebbe essere molto difficile. E vediamo a Urbino. A Urbino si parla dell'Istituto Raffaello che sarà abbattuto in estate. L'Istituto Raffaello era stato accostato con l'ex Carducci di Fano, perché sono due istituti che devono essere abbattuti e ricostruiti. Ebbene, la supremazia in vantaggio è stato l'Istituto Raffaello di Urbino, che ha avuto subito i soldi, mentre l'ex Carducci ha dovuto attendere prima di ricevere. Ora li ha avuti, ma anche qui, insomma, tutto l'iter burocratico va un po' a rilento. L'abbattimento della vecchia sede dell'Istituto Raffaello partirà in estate, lo ha annunciato il sindaco Maurizio Gambini, riportando l'avviso arrivato dalla provincia. Una volta finito l'anno scolastico partirà la demolizione. La mia speranza, ha detto il sindaco, è di avere la nuova scuola nel giro di un anno, da quando cominceranno i lavori di ricostruzione. Dovrebbero essere lavori abbastanza celeri per realizzare il nuovo istituto, ma c'è anche chi non è d'accordo per quanto riguarda la sua demolizione. E si tratta di Michele Felici, ex dirigente del Comune. Dice che quel fabbricato è un fabbricato architettonicamente molto pregevole, valido. Si tratta di un'opera significativa di pellegrini e quindi non dovrebbe essere abbattuta, ma ormai i giochi sono fatti e credo che non ci sia più possibilità che la cosa venga arrestata. Passiamo a Cagli. A Cagli vediamo, qui c'è una pagina, in questa pagina del resto del Calino, e sono due notizie che riguardano due imprese, due aziende che hanno ottenuto dei risultati molto positivi per quanto riguarda la loro attività. Cagli esulta per l'accordo con Cariaggi-Chanel. Dopo l'operazione con Brunello Cucinelli, l'arrivo della casa di moda francese contribuisce a rilanciare l'economia dell'entroterra. Infatti la notizia dell'arrivo di Chanel nella comproprietà di Cariaggi, preannunciata dal resto del Calino nella giornata di ieri, ha alimentato immediati e positivi commenti in città, in particolare nella ormai nota Smirra Valley. È un po' questa zona di carattere produttivo molto molto effervescente, molto attiva, molto vivace. E anche a Sant'Angelo Invado si festeggia. Sant'Angelo Invado, la sub, festeggia i 20 anni con un fatturato da record. Si tratta di una ditta leader nel settore tubi, raccordi e complimenti in PVC, nata appunto nel Monte Feltro. Ebbene nel 2007 questa ditta aveva un fatturato di circa 8 milioni, quest'anno prevede di superarne i 40. Pensate ai progressi che ha fatto questa ditta. Giriamo ancora la pagina e vediamo qualche notizia che riguarda Pesaro. Pesaro ancora fa i conti con il disastro dell'alluvione. Alluvione, 11 milioni di danni, il conto della protezione civile, 4 per il territorio, 7 per i privati. Solo per quello che riguarda le case, le case private e la gente che ha dovuto abbandonare le abitazioni, ci sono richieste che superano i 7 milioni di euro. 3, 4, 5 milioni per quello che riguarda il fronte del pubblico. Vediamo come gli amministratori sono impegnati nel giro dei controlli, insomma delle consultazioni, specialmente anche con i cittadini che hanno avuto i danni più diretti. E quindi si cerca di fare i conti per presentarli poi al governo. Sappiamo che proprio tra poco, tra breve, il governo si riunirà proprio per decidere gli stanziamenti in favore anche della provincia di Pesaro Urbino, in favore delle Marche, quindi non solo per l'Emilia e Romagna. E poi che è stato più disastrati? Sono stati i concessionari di spiaggia. Vediamo qui due pagine dedicate alle loro lamentele. Il Genica è la spiaggia mangiata, avrò 40 ombrelloni in meno, dice Marco Montesi, titolare dei bagni Gino 34. Inizio col freno tirato per il titolare di questa concessione. Anch'io ho perso tre file di ombrelloni, dice Sabina Cardinali, presidente nazionale della CNA Balneari nel suo stabilimento. Aspettiamo che la regione dia fondi straordinari per i ripascimenti, ma poteva andare molto peggio. E poi c'è l'altro lato della medaglia, quello degli aiuti. Sono partiti tanti aiuti dalla nostra provincia verso le zone più colpite, quelle che hanno spattito di più per l'alluvione che si è verificata nei giorni scorsi, quindi verso l'Emilia Romagna. Il cuore degli ambulanti, cose utili per la Romagna. Martedì prossimo al bar del mercato, la raccolta per le popolazioni alluvionate. Valerio Tamburini, il rappresentante, anche Pesaro dice faccia la sua parte. Ed ora vediamo un attimo un articolo che riguarda il nuovo ospedale di Muraglia. È un po' che non se ne parla. Si parla soprattutto del nuovo piano sanitario regionale per quanto riguarda i servizi, ma in questi ultimi tempi si è parlato di meno per quanto riguarda le strutture. Ebbene, il nuovo ospedale di Muraglia è ancora in fieri, è ancora in etinere e c'è il problema dello spostamento dei servizi di tutte le strutture che sono contenute attualmente nel vecchio ospedale per lasciare posto al cantiere che dovrà essere installato. Muraglia, il rebus dello sgombero. In salita, il cantiere dell'ospedale. L'area va liberata entro il settembre del 2024, ma gli spazi individuati non sono ancora disponibili e c'è una corsa contro il tempo. Ebbene, si tratta di trasferire, pensate, 27 utenti del RSA Tomasello, 18 della struttura residenziale riabilitativa, 20 della comunità protetta femminile e altri 20 di quella maschile. Per non parlare poi di tutti i reparti ospedalieri, ovvero il centro di salute mentale, la psichiatria, in pratica a Muraglia dovrebbe rimanere soltanto la cosiddetta palazzina Solazzi, quella della radioterapia, ma la strada è lunga e quindi non è molto molto facile. E poi vediamo che l'attuale commissario Gentili ormai è in via di smobilitazione, sta salutando un po' tutti. Non dovrebbe essere lui il nuovo direttore, il nuovo dirigente dell'azienda sanitaria territoriale. Nella prossima riunione di giunta, lunedì prossimo, la Regione intende nominare i direttori generali delle 5 AST, quindi anche quella di Pesaro Urbino. Però sembra che Gentili non sia tra i favoriti, anche se lui è uno che al momento ha diretto con serietà in questa fase di trapasso la situazione ospedaliera territoriale. Vediamo ancora un altro titolo di cronaca prima di chiudere. Vediamo questa lite in famiglia. La guerra dei Rosis, così intitola il resto del Carlino. Si tratta di una lite tra marito e moglie. Lui, l'ex marito, un cinquantenne pesarese, ha denunciato la moglie per non avergli voluto restituire il suo guardaroba. A suo dire, nel quale ci sarebbero oltre 100 camice, altrettante paia di scarpe, 200 magliette, 50 giubbotti, decine di cinture, tutti i capi griffati e non gli avrebbe dato nemmeno le bottigliette da collezione, oltre ad alcuni mobili e oltre 200 libri. Questo è un po' quello che afferma lui e tutto finisce davanti al giudice. La procura però aveva chiesto l'archiviazione. L'ex marito si è opposto. Ora si tratta di definire una nuova udienza. Il giudice ha rinviato la decisione di qualche giorno per fare pace, insomma, per dirimere questa controversia. Ed ora diamo un'occhiata anche al Corriere Adriatico. Vediamo subito l'apertura che appare sulla pagina di Fano. Vediamo una novità che riguarda la mobilità della Città della Fortuna. Monopattini e biciclette elettriche, sale a 300 mezzi, la flotta disponibile. L'assessore Brunori, domani sul lungomare Simonetti. Ci saranno prove gratuite per chi vuole fare pratica. Ebbene, l'amministrazione comunale di Fano si appresta a rinnovare la convenzione con la ditta che mette a disposizione 200 monopattini e 100 bici elettriche a fanesi e turisti che vorranno così visitare e muoversi in città senza l'automobile e per incentivare appunto l'utenza domani tra le 16 e le 17.30 presso la cavea di lungomare Simonetti al Lido di Fano ci saranno questi mezzi a disposizione gratuita dell'utenza e verranno anche regalati dei caschetti. Quindi chi vuole sperimentare questo mezzo di locomozione può tranquillamente farlo. Vediamo anche che oggi si inaugura la Tre Giorni dedicata da Fano a Ruggero Ruggeri. Lo si fa nel nome di Pirandello che è l'autore drammatico di cui Ruggeri fu un insuperato interprete. Meeting firmato Pugliani, grandi nomi e innovazione per consegnare una eredità. Vediamo che la giornata si inaugura oggi alle 10 alla Rocca Malatestiana. Ci saranno tante iniziative, ci saranno personaggi famosi, Arianna Ninchi, Carlo Simoni. Grande curiosità poi per la rilettura del capolavoro pirandegliano. Così è, o mi pare, in VR. Firmato e interpretato da Elio Germano. Elio Germano, insuperabile. Anche lui interprete del giovane favoloso. Un sopralluogo alla briglia, ma la soluzione è lontana. Questa diga che si è creata, questa diga che si è rotta, diciamo così, nel fiume Metauro, creando molti problemi dal punto di vista idraulico, tecnici Enel e Aset a Cerbara, allo studio il tipo di intervento e la tempistica per riparare i danni. Bella anche l'iniziativa dei carabinieri che hanno spettato i bambini nella loro caserma, i bambini e gli studenti della scuola Montessori, ospiti della caserma nell'ambito del progetto a favore della legalità. Aiuti alle famiglie fragili, accolte, 85 domande su 99. Un progetto d'ambito che ha così prestato aiuti alle famiglie che si trovano in difficoltà economiche. Ovviamente la maggioranza hanno fatte le famiglie fanesi, perché sono tantissime rispetto alla popolazione residente, ma anche gli altri comuni hanno avuto questi sussidi. Si tratta di 500 euro che vengono tratti dai fondi regionali che poi provengono da quelli statali. Banca di credito del Metauro, l'utile del 2022 sfiora i 6 milioni di euro, è stato presentato anche il concorso ideato per premiare fiducia e fedeltà dei soci. A San Lorenzo in campo invece c'è un atto di simpatia e di riguardo per le donne incinta. Per le donne in gravidanza la civiltà dei parcheggi rosa. A San Lorenzo e Mondavio stagli riservati anche ai genitori di bimbi piccoli. Tiriamo ancora la pagina, siamo a Senigallia e vediamo che ci si appresta a coprire il problema causato dalla inservibilità di Ponte Garibaldi e si attua un'opera provvisoria. Il montaggio è ok, ma è un rebus quando sarà fruibile. La struttura al momento è in allestimento. L'Avvocato Netti entro maggio, il posizionamento, poi il collaudo. È arrivato ieri il Ponte Ciclopedonale che nei prossimi giorni verrà assemblato e montato. La ditta ha terminato i lavori e ha portato i primi blocchi della struttura che dovrà servire da passerella. Quindi è un intervento al momento provvisorio per poi dare mano a quello definitivo. E con la pagina di Senigallia noi terminiamo la nostra rassegna stampa dandovi appuntamento come sempre a domani, sempre alle ore 7, ma per le notizie del giorno vi invito a guardare attentamente, occhio alla notizia, il TG di Fano TV delle ore 20 e 30 di questa sera. Grazie per l'ascolto. A risentirci. Grazie per l'ascolto.